ciao a tutti sono giocotto f e oggi vi faccio vedere che mi ho dimenticato sempre di far vedere tutte le abilità nu dai cominciamo da spino da spino da spino e c'è un anzonnellino spino detto primo spino così tutti questi attacchi c'è così c'è così poi c'è poi c'è così poi c'è spinopasticcio e così spara tutte le cose così poi ci abbiamo non ghiaccio spino chistrallolo perché non so anche come si chiama così è o cos'erano beh forte non lo sapevo questo attacco ma è fortissimo poi ci abbiamo matita dai primo dai facciamo quella potenziata così guardate così si distrugge direttamente poi due punte escono in alto dai dai scegliamo tornado no aspetta un attimo mi ero dimenticato l'altra abilità abbiamo questo per fa una matita e questa è super brutta che non mi piace così potenziata perché non mi piace però escono i massi dai vento adesso toccava vento poi c'è così c'è i fulmini e crea tutto un casino di polvere crea tutto no perché mi hai fatto ritornare fuori poi c'abbiamo e cominciamo a me adesso da ghiaccio dai adesso cominciamo da questo il primo così 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 anche a proteggersi così può fare anche così 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 può fare anche ghiaccio poi questo così e che da tutti i pupazzi di neve per lanciarli poi ci abbiamo questo ghiaccio che è così così poi è così poi è così poi fa così come tipo per rompere il ghiaccio come tipo guarda può fare così dai sonnelli non serva a niente quindi non facciamo e cominciamo da bomba tempo cioè si da la normale questa la rallenta il tempo lo rallenta e se lo tocchi dai e la faccio provare contro questo contro questo box che non fa niente va tutto visto che non si muove neanche quindi facile da usare questa abilità quindi adesso usiamo dobbiamo usare bomba normale anche sono tantissime quindi questo video dura tantissimo ma tanto tanto speriamo che non vi stufate però così e lascia tutto grigio oh quanto grigio che ha lasciato dai dai cominciamo dall'ultimo martello dai cominciamo dall'ultimo martello poi vi faccio vedere una cosa che vi fa ridere se non lascia troppo dai dai adesso dai no non facciamoli vedere tutti i attacchi facciamo questo vi faccio vedere solo uno va bene così che così non vi stufate va bene dai adesso vi faccio ridere questo nome di martello si chiama martello giocattolo così oh nooo così dai poi c'è così è BUNCH lascia tutte le macchie poi abbiamo l'ultimo martello martello normale che non serva a niente e questo è super forte l'oratore nobile anche se questo si chiama l'esploratore spaziale sbang dai si chiama adesso esploratore anche questo non serve a niente e nemmeno quello quindi dai quelle che non servono a niente non ve le faccio vedere quanto serve a qualcosa bum 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 avete visto? dai vi faccio vedere intanto le altre spade tipo questa spada oh nooo così aspetta oh poi è così bum escono pipistrelli se non è tanto forte oh ma quando ma come mai non spada quelle righe come questa dai guardate il suo lo suo scudo non si può scrivere ma non c'è lo scudo cammina però cammina piano piano manca l'ultima spada dai adesso è finito il video ciao 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 finito ci vediamo la prossima è un altro video di tutte le abilità non proprio ma no ma dai ma forse si ciao ciao ci vediamo Grazie a tutti